Dove l'ha scaricato il mezzo? Mezzo ai Carpazzi Se siamo sulla neve, guarda C'è un colpo C'è un canale sicuro Sì, guarda C'è un canale sicuro Sì, guarda Qualcosa che non sappiamo con sto fungo del cazzo Allora Sì Primo Secondo Qua eravamo nella camionetta Qualcosa ha ribaltato la camionetta Poi questo qua era un agente De Cristo era Si è caduto dalla montagna E qua dentro dove, Beppe? No, tipo dentro il furgone Non entriamo se ci abbassiamo No, no Non si è No Adesso c'è pure il coraggio di andare avanti Aspetta Cioè avanti si può camminare il sentiero Fa freddo comunque Tanto che Armi ne abbiamo Non abbiamo un Cristo di niente No E di dove Mi sento dei rumori di Cristo Oh, chi cazzo è? E di dove tu camminare? Sì, è il rumore di Cristo Eh Qualche glitch grafico, eh? Porco Dio Cos'è? Nooo Vai avanti Io non guardo Trento tu muori del cazzo, eh? Raga, io Aia Che bestia Mi son tagliato Affancula Ma come vado giocando? Che cazzo è? Raga La valanga Ah, si è tagliato, sì Cioè io Un po' che Un giusto secondo avanti Cos'è sto rumore? Ah boh Cazzo è sto rumore? Cosa sto sentendo? Adesso stiamo camminando nell'oscurità No Io sono in mezzo A Delle robe Scannate Ah c'è Ci sono dei corvi scannati Ma perché sto cristiano Che fa deve trovarsi sempre in queste situazioni di minchia Madonna di uccelli morti Che fa? Vaffanculo Cazzo Corri, 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 corri Non voglio guardare Non so cos'è Corri, corri Oh che cazzo è? Non lo so Non so cos'è Non so, non vedo un cazzo Sento solo dei rumori Sto correndo Rucucchio! Che cazzo è? Ma come si corre in sto gioco di merda? No ma mi sa che ha freddo Eh ha freddo Vaffanculo Pesci morti Ho fatto un salto di Cominciamo bene Ti vuoi giocarlo A mezzanotte Qua mi cacciano No a mezzanotte no 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 Ma anch'io non è mezzanotte Cosa c'è qua? Io l'unica cosa non voglio perdermi gli oggetti Mi stiamo facendo estrema Eh raga Io sono Io ho corso Sento dei rumori della madonna Entriamo Entriamo Oddio cosa c'è dietro la porta? Cosa c'è? Ma non entra Ok io sono entrato Da dove cazzo è entrato? Puoi chiudere da sta porta di minchia No non la chiudiamo Sono entrato anch'io Allora sono entrato anch'io Allora vediamoci con degli oggetti Erick Dobbiamo sempre mantenere il coraggio Ho poco sbocco la pizza perché Ho fatto un salto Mi sono collegato addosso per una staruzzata Ah! Un cassetto si può aprire Raga ve lo dico Una corda per impiccarci Iniziamo su Come chiudi? Che cazzo ti chiudi? Niente Non si può prendere Eh tanto nel ciò Ma Non è però Un po' di schifo nel lavandino Aspetta aspetta Allora stiamo avanti Interagisci E certo La prima cosa che fai in sto posto qua è chiudere il lavandino Eh perché Il rispetto dell'ambiente Rispetto dell'ambiente Merda Raga è una merda Raga è una merda Topo Oh Che hai visto? Oh Che minchie hai visto Beppe? Divento sentito una roba Però sto camminando sempre Cioè stanno che tu l'abbia sentita Io ho sentito una minchie Io vedo delle pillole Orcodio della madonna Chi cazzo è? C'è un armadio da aprire Io lo apro Chi c'è dentro? No nessuno C'è sta minchia Che stanno senza armi Io ho voglia di trovare una pistola in subito Ma ti dirò Guarda c'è un quadro con una che sta facendo un quadro C'è una foto con una che sta Lo sto cucendo Sì però raga Qua c'è del sangue che va Esatto Ma cosa sono sti rumori di merda? Dobbiamo scendere se sei interrato Ma perché? Ma io non ci andrei mai tornerei indietro a aspettare l'auto Ma la torcia? Piglia la torcia almeno no No niente Con L1 ti pari Ok Sì la lanterna intendevo Piglia la lanterna e gli ha stampi in faccia No Della frutta marcia C'è un cazzo sul piano Non hai una banana marcia Eeeh Chi è? No Ci sta venendo un'acidità di stomaco Lascia stare Affanculo vuoi la scrocchia Allora qua c'è un interagisci Una foto Di Gesù Cristo Esatto Vabbè Vabbè Mi sono cagato addosso Porco Dio Cazzo è che mi è caduto in faccia Sì ti arrestano alle 10 a te Sì sì no Anzi ogni tanto butto un occhio all'ora se sei comodo Chi è che bussa il porco nell'armadio? Dimmi Stiamo aprendo? Eh 3 2 Allora 2 1 Chi cazzo è che bussa porco? Un po' del cazzo Un po' di merda Un po' di merda Quanto ci dai che ci giriamo e c'è Gesù Cristo? 3 2 No ok No ok Eh però adesso dobbiamo tornare indietro Eh Oh Oh Ecco appunto Chi cazzo c'è sopra? Ma che minchia succede? Non ho capito Non torno indietro raga non torno indietro E dove cazzo vuoi andare? Qua Non c'è una porta qua Ma perché se c'è bordello scaviamo fuori andiamo su No no Comunque ci sono dei segni staccati notato No C'è il segno della steelbook in un muro Sai la steelbook che c'ha quell'embrione? Si ok Ok c'è pitturato sta roba qua quindi Ah l'ho visto adesso l'ho visto adesso L'embrione Il figlio da Dimitrescu Pazzesco Ma non lo so Io sto a poco sbocco l'acido Esatto Allora sto andando C'è un coso morto? No no è un Il cervo Allora sto salendo eh Pure io Porco Cos'è? Cos'è che corre? Ma dove cazzo ti corri? Allora hanno buttato giù un armadio Ecco E io come cazzo ci passo di qua raga? No no si si Ti avvicini si abbassa da solo Sta facendo tutto lui adesso a me Boh Adesso arriva Cristo Aia cosa ho toccato? Ah sono tagliato è vero Eh ma il tetano? Il vaccino? No raga Noi figurati Perché Devi capire che gli stars sono vaccinati contro il tetano Nel frattempo si è fatto giorno Che è rassicurante Esatto Scavalca Scavalca Via Vai vai cazzo duro tanto è giorno Chi ci attacca di giorno Vedi che Allora Per adesso molto introduttivo però sta per adesso colpendo nel segno Cioè non gli posso dire il fatto Sì sì per carità Un po' forse un po' Guardalo lì Hogwarts Ok Forse un po' d'acido Attenzione qua c'è un salvataggio Dove stra Cazzo del Porco sono finito Però bello Sembra un di Sembra un dipint Cioè il colpo d'occhio è bellissimo quando spunti da Aspetta un attimo posso attivare Il ray tracing così on the go Ma prova No non me lo fa fare Non me lo fa fare Perché pensa Era anche più figo il ray tracing E' bellissimo lo scorcio eh Non gli si può dire un cazzo E' veramente stupendo Tra parentesi sembra enorme sto castello di merda Io non so dirti questo E non ci voglio entrare nel castello di merda Se andiamo giù Bello però Molto bello Mozzafiato Allora Mottiamoci di sotto Vabbè il giorno E' rassicurante qua Sabarnuia L'angelo di qua Sì sì Andiamo a mangiare due ravioli Dalle vecchie bastarde Orco Che cazzo sono finito? Che cazzo succede? Eh ma qua il giavello Allora Attenzione Pieno di Resident Evil 4 Allora Sì esatto Pare che mi faccio una bestia morta Ah fanno la differenziata comunque Qua vedo due strade Bello Vivono in mezzo alle bestie scannate Ma fanno la differenziata Devo dire che La canna di cavallo Allora Mi posto di merda Ci devo andare Ethan Io no No ma su No ecco L'unico cosa che ho finora Che è proprio un po' così Pam pam Boh eravamo lì a farci cazzino Eh ma perché Non c'è qualcosa che non sappiamo E quindi Allora Dobbiamo aprire sta porta Vedi non ci fossimo Andiamo lì? Sì sì Dobbiamo cercare Dorco Aspetta Aspetta Allora tu hai aperto quella che si stava aprendo da sola? Sì esatto Eh no io ho aperto l'altra invece Quale? Eh Quella davanti Eh sì Di fronte Allora vado di fronte dai Senza farla Ok Dobbiamo cercare delle cose Dobbiamo Ok fair Allora Lì Mi è passato davanti Gesù Cristo Quindi io torno indietro Ok E andiamo in quella lì che si apre la sola a questo punto Casa di Cesco Permesso? Aspetta aspetta Chiudi qua C'è tutta la merda per terra Una serratura facile da scassinare Pazzesco Dove cazzo è? Dove dov'è dov'è? È lì ma tanto con cosa la scassini col cazzo Ma con Gesù Cristo Bello che dice Forse non c'è nessuno Ma qua si stanno facendo la ciorba di sta minchia Cosa vuol dire non c'è nessuno? Di questo culto bestiale quadri di Cristo messi Sento dei rumori poco rassicuranti Ma adesso non è time crisis Cesco Se guarderai mai sto video Ma raga Ah qua c'è un'altra foto di Gesù Cristo C'è la con La conserva Sì sì lì dentro non c'è niente Devo andare alla porta dove Si è passato quello là Mi sa perché Vabbè Non so se hai visto quello che ho visto io Ma dove? Eh uscendo dalla casa Ma tu sei già andato dove ti è passato Sì Sono nella porta Sono nella porta Sì esatto Sto andando adesso Dimmi quando ci sei Ok Eh niente l'ha aperto in automatico Allora vai a fanculo L'ho aperto anch'io boh Allora Qua c'è un pozzo C'è un pozzo Io interagirei Verrà Io interagisco Vai Serva qualcosa Ecco Serve la manovella Iniziamo Cominciamo a rompere Apriamo il cesso Vai Apriamo il cesso Chi c'è nel cesso? Pattumiero Il cesso giustamente Vabbè Sto entrando nelle stalle Pure io Vabbè Lassopra c'è una gabbia per uccelli Simile a quelle che In Resident Evil 7 Aprivamo Vero Vero Che ti danno le armi eccetera O le armi o aumentarti la cura Comunque Niente Ehm Dobbiamo salire su Non possiamo fare un cazzo Dobbiamo salire Ma aspetta Esploriamo bene Lì c'è una roba che dice Non puoi entrare C'è un lucchetto E va bene Quindi torniamo indietro Da qua dall'altro lato Corvi di merda Mi avete fatto saltare Siete dei bastardi Qua puoi andare No non puoi andare Niente Su andiamo giù Allora qua sulla destra C'è subito una casa qua Da fare Esatto Io entrerei Siamo senza niente Senza niente Sento una radio No Pure io Ma che cazzo è la banda del pe... No Attenzione Qua c'è il... Porco di... Che cazzo è C'è il giocattolo della bambina Hai visto che c'è il giocattolo della figlia Dove dove? Dentro la casa? Ehm Ah sì è vero Che ci fa questo qui Ma... Come è possibile? Qua c'è il simbolo Nel muro dell'embrione E niente E niente Dentro sta casa comunque Non devono esserci un cazzo Cosa cazzo? Allora io ho fatto il giro Ho tornato a casa Ho trovato un cesso Chiuso Pure io Chiuso Chiuso non si apre Ci sarà qualcuno dentro Occupato Va bene Andiamo all'altra parte E dove andate E dove andate più avanti Qua non c'è un carro Più avanti Sto superando un pagliericcio Si può andare a destra O a sinistra Andiamo a sinistra Andiamo a sinistra All'altra parte A sinistra qua stiamo passando dove Si sono trascinati via il cavallo Che mi sa che te non hai visto prima Si no Il cavallo si Il cavallo morto Si si Quello che hai visto quando scendevi giù Si si ho visto il cavallo Niente Speravo di trovare qualcosa di interessante qua Abbiamo trovato un cazzo Si perché qua c'è una macchina cappottata su Eh si esatto Ma non c'è niente un cazzo Niente Andiamo all'altro lato Eh questa qui è l'introduzione Loro ti dicono Guarda che Corso un po' Ma le teste di capra Le teste di capra Le teste di capra I caprini Che cosa hanno fatto? Eh Eh Hanno fatto Il rituale di satana Hanno fatto Il rituale di satana Hanno fatto Ehm 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 Eh ma tanto quando c'è Cioè sto camminando ma Boh c'è una Ah lì c'è una porta di Allora qua c'è una porta con un messaggio Chiuso il proprietario è sparito Boh E non te la fa aprire Solito vizio di merda che quando ti avvicini a qualcosa la scuote Però va bene E di là c'è Una porta d'acciaio e una porta di casa Chi cazzo è tipo Ha le galline Vaffan Qua c'è anche una luce C'è una torcia tipo Allora Andiamo Eh mi sento di entrare qua Perché è la porta del Pollaio Boh Diventa di qua boh Tiamo qua Boh Ok Abbiamo trovato Cos'è? Allora C'è da spaccare delle casse qua Io le spaccherei Ehm Dammi il coltello Grazie Ok Coltello Coltello per rompere la scatola Esatto Soluzione medica Soluzione medica Molto bene Inventario Ok Minchia madonna di spazio Com'è l'inventa Faffa Eh vabbè Abbiamo la L'addestramento Allora Cosa hanno cucinato qua? Run out of house Cazzo fai Giri la polenta qua La zuppa Ma non ci possono essere rotti Io inizio A fuddare le coltellate in giro Si ma col coltello Se arriva qualcuno E gli fai una minchia Attenzione Qua c'è Che schifo Il mangiare è la cosa che fa bene Ogni gioco Devo sprecare tanto di quel cibo Ah dimmi quando aprire sta tenda di minchia Aspetta eh Sto ancora cercando qua per lo stand Ma non c'è un cazzo Infatti interessante l'idea che hanno di noi europei Nel senso che boh Se sei in Europa vivi così praticamente Boh E tutto quello che non è giapponese Per loro è marcio Va bene 3 2 1 Vai E' stoppata la musica Dio Ma figlio di troia Ma io ho sparato Ma chi ti manda sto cazzo mi manda Chissi Va qui Oh no Quante l'ho grazie è stato un piacere ma non è che mi date il fucile nel mentre no si prendono anche ma sono passi chi è? vaffanculo no tu che dici? che cazzo ti sembra? che cazzo ti sembra? mi chiedi i morti che hanno fatto questo lotto allora 10 colpi ovviamente i colpi di zambena vedo una decina o tre allora cerchiamo bene qua vedo un tizio che ha la testa si rialza da qualcuno io so già che si rialza da qualcuno facciamo quella testa di questo e la muoviamo si 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 eh Gesù Cristo ti assicuro che non c'è ma mi fai muovere per favore cos'è quello lì? ti vedo ti vedo figlio di bestia e adesso oh che cazzo è meno che cazzo mi ha staccato tre dito due dito no 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 figlio di puttana è un problema è un problema è un problema ma tu mi stai sparando è un problema cazzo del porco porco dio ma quanto sei veloce però eh si guardia si però la modalità estrema è un po' estrema sai non va vero eh non lo so eh io sto morendo come un cane allora ti dico io allora anch'io però mi è rimasto un colpo e ho finito la cura e sono con la vita rossa quindi la modalità estrema mi sembra un pelino estrema però allora mettiamo ma proviamo proviamo ad andare avanti nel momento in cui non riusciamo più ad andare avanti che devi dire eh lo rifaremo figlio di una troia non puoi scappare eh in questo caso no eh quindi va bene e quindi abbiamo fatto la conoscenza coi lupi mannari fondamentalmente state dicendo questo io mi esploro un po' sta casa di sta minchia fluido chimico vai l'hai ammazzato? si si però come ti ho detto sono rimasto con un colpo senza cura ah cura me ne posso fare una adesso mi sa perché ho fatto qua esatto io io sono riuscito a ammazzarlo e ho sprecato venticoli eh bestiale trofeo creativo eh fai la consigenata su una mano squartata dove hai trovato il eh lì vicino c'è un capanno qua che cazzo è perché lui è venuto per terra ed è morto si si è morto sprecato tutti i proiettili che fa dove è io allora fluido chimico ok che facciamo stiamo tornando stiamo tornando dentro sta casa io ci torno perché voglio vedere se porco di dio ma basta una pianta verde l'hai trovata la pianta verde si eh si te l'ho detto che l'ho fatta adesso l'hai fatta adesso allora no io sono tornato dentro la casa esatto perché voglio le tronchesi grande devono no però allora ascolta ci deve essere una maniera di disattivare sto rumore di merda ogni volta che pigli un oggetto chiave perché mi hanno rotto i coglioni opzioni adesso comunque io i grilletti adattivi non li ho mica sentiti io ho sparato ma vabbè c'è grilletti adattivi ma come quella pistola no porco non c'è maniera di togliere quella merda va bene comunque c'ho le tronchesi allora avere le tronchesi vuol dire che dobbiamo tornare tutto indietro perché se ti ricordi c'era della roba da fare eh in realtà si però tutto indietro vuol dire che dobbiamo tornare però bisognerà rompere penso il cancello che abbiamo esatto intanto dobbiamo aprire sto cancello qui e va bene apriamo sto cancello di sta minchia eh te regisci foto di famiglia dovevo usare cazzo ma quando ci ha mandati ma porco ma come siamo entrati e noi non possiamo tornare indietro eh vediamo un attimo sto tornando a tornare indietro vediamo un attimo se c'è eh no è un problema vabbè penso che ci torneremo all'inizio perché c'era anche una manovella da trovare eh no ma per me torniamo tanto eh ma tanto qua lo vedo perché mi sa che è crollata la parte della casa dove siamo entrati noi esatto vabbè niente proseguiamo di qua qua che cazzo cos'è sto d'umore e io c'è una bestia di dentro si sono fottuti un cadavere e dovevo entrare però perché senza posizione qua non fare un cazzo aspetta perché io sto guardando intorno a qua si può fare il giro eh cioè tu dici dal ruscello qua fuori no dalla casa è chiusa dall'altro lato niente bisogna entrare in sta casa di merda io devo imparare a pararmi che cazzo che sono umore del cazzo puoi sbarrare le entrate usando gli scaffali vai cos'è bep cazzo dalla radio bella radio bella radio io ho sbarrato comunque non si sente nulla ah boh io tanto avevo sbarrato quindi non entra un cazzo di nessuno su chiami la minchia ho posizione di pistola di carica dov'è grande chi è cazzo di rumore di merda cinque colpi non fai niente con cinque colpi no raga ho sprecato un colpo ma perché sono cretino mi ha sopra qualcuno al secondo piano eh sì c'è qualcuno cos'è cazzo salta salta vai su ok va bene allora altri colpi dammi dammi ti ammazzo coglione è entrato dentro no eh no 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 si si invece no invece no coglione allora abbiamo ricaricato che ricarica tattica signori come si si abbassa così allora niente tanto dobbiamo entrare indietro qua Beppe esatto volenti o non volenti però perché non mi fa vedere ma scusami sto succedendo di tutto sono circondato e io corro e dove minchia vado di porco raga è un problema non so dove andare non so che fare eh ciao com'è t'apposto eh mi mangiano no 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 coglione ti spacco madonna sono morto recupera la salute dai dai allora niente mi sa che questa che qua sto morendo è andata così fa nevati da cazzo io sto ancora combattendo con uno no non ho finito i colpi e io sono morto non ho capito da dove si esce onestamente neanche io sto ancora combattendo sono morto io l'ho buttato dandogli una coltellata in faccia no non è che devi uscire lo devi seccare quello che tu hai vi dentro porta no no te lo dico io praticamente io ho aperto l'entrata secondo me tra un po' ce la aprono guarda dai invece no ho messo pausa eric perchè io no battendo quello se mi stia levando il canto qui e parte dalla radio una comunicazione messa in pausa lo devi battere allora ci provo eh io però con il joypad non sono in grado di mirare porco aia ciao eh non so giocare non so giocare eh mettici di più a ricaricare mi raccomando io sto continuando a cercare di cambiare l'arma con triangolo vaffanculo eh però raga non si fa così eh se iuti meno devi morire coglione eh no no allora come si abbassa sta difficoltà no no